ciao fare music.it perché questo è proprio importante di farlo ad una grande emittente grazie ho cercato di usare la parte per capire tecnicamente che cosa devo fare stasera cosa non ho mai fatto prima io non ho mai non ho sempre stato attento la parte tecnica per l'ascolto che quest'anno sembrava che sia stavolta non è neanche difficile tornare l'attenzione nonostante che sembra io sia la faccia sempre dal punto di vista dei video cioè l'attenzione di avere un atteggiamento cioè sicuramente spontaneo io mettere dei blocchi da solo mi aiuta a considerare cosa questa situazione devo portare prima così perché così non sto attento troppo alle motività che mi crea perché ogni volta la situazione mi crea una sensazione diversa e mi stradisce questa cosa quindi tutto mi distrae tutto perché qualsiasi cosa è meglio di soffrire per far soffrire cioè non è che mi fa soffrire mi mette di fronte a me stesso e tutte le volte ci passiamo delle domande è ovvio che non è che ci passiamo perché nel momento in cui ci passiamo le domande che non è che ci passiamo le domande a questo punto